Ciao bambini, sono la maestra Marianna. Allora, oggi voglio creare insieme a voi un bel festone di farfalle che potrete appendere nella vostra cameretta oppure dove volete voi. Allora, abbiamo bisogno di un foglio bianco nel quale disegneremo tante farfalle, poi delle forbici per ritagliare le nostre farfalle, la colla per incollarle e poi un nastrino. La maestra ha un nastrino rosso, voi quello che avete. Allora, prima di tutto iniziamo a disegnare le farfalle, quindi mi raccomando fate le farfalle e le dovrete fare più grandi e più piccole. Poi colorate le vostre farfalle, il colore che preferite, mi raccomando, tutti i colori, gialle, rosse, verdi, tutti i colori che più preferite e poi le ritagliate. Allora, adesso la maestra però le ha già fatte le farfalle, ne ha fatta una più piccolina, un'altra più grande. Voi mi raccomando, fatene tante perché più farfalle fate, più il vostro festone sarà pienissimo di farfalle. Poi, piano piano, dovrete incollare le farfalle al nastro. Ecco qui. Allora, la maestra aveva già iniziato, adesso continua. Quindi, prende la colla e inizia. Continua, quindi. mette la colla dietro ed eccola qui. Incolliamo un'altra farfalla. Ecco qui. Poi, prendiamo l'ultima farfalla e la incolliamo. Ecco qui, bimbi, il festone di farfalle. farfalle tutte colorate, mi raccomando, fate la grandezza che preferite, più grandi, più piccole, incollatele come volete e soprattutto dove volete. Bimbi, divertitevi, come sempre, anche nel fare questa attività. La maestra vi manda un bacione e non vede l'ora di rivedervi. Ciao.